...in modo particolare i vostri muri hanno messo in difficoltà la regione, il primo senso dove c'è stata poi la vera partita, il resto di voi Modena è andata in difficoltà. Sì, sono molto orgogliosa delle mie compagnie di squadra, abbiamo iniziato la partita un pochino in difficoltà chiaramente con il gioco veloce che c'è in Italia rispetto anche con il campionato lusso, ci è servito un po' di tempo per abituarsi, però una volta che abbiamo iniziato a battere con consistenza mettendoli anche in difficoltà dal punto di vista di ricezione, il numero di difesa di scuola, la tempo fa un po' di meglio e soprattutto sono contenta che abbiamo tenuto una concentrazione fino alla fine. Adesso a questo punto vi sentite un messaggio che date anche nell'attroversario? la fase finale, la fase finale? No, non credo che ci sia bisogno di pensare in questo modo, purtroppo quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi nel gioco, ripeto sono felicissima della partita di oggi, però piano piano lavoriamo sperando che questa partita sarà in continuazione una prestazione del genere anche per questa partita, non solo un flash e quindi spero onestamente che riusciremo a lavorare bene anche per il futuro.